La cava abusiva per l'estrazione di inerti sequestrata questa mattina dai carabinieri del Nucleo Patrimonio Culturale di Cosenza, in collaborazione con i militari della stazione di San Giovanni in Fiore, ha esposto un costone di montagne affacciato sul lago Arvo nel cuore della Sila a grave pericolo di crollo. I particolari dell'operazione sono stati resi noti nel corso di una conferenza stampa organizzata presso la Procura di Cosenza, con la partecipazione del Procuratore Capo Mario Spagnuolo, dell'Aggiunto Marisa Manzini e del Comandante del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale Carmine Gesualdo. Le indagini hanno preso il via da un esposto di lega ambiente che aveva segnalato la gravità della situazione e sono state dirette dal sostituto procuratore Maria Francesca Cerchiara. Denunciato il proprietario del terreno, un imprenditore di 78 anni di San Giovanni in Fiore, che dovrà rispondere della realizzazione e della gestione di una cava abusiva in zona sottoposta a vincolo paesaggistico. L'imprenditore è stato denunciato anche per il crollo parziale del costone di montagna dove è stata realizzata la cava e per la conseguente situazione di pericolo venutasi a creare. Salvatore Bruno per la C News 24.